Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Buonanotte! Buonanotte! Sto scherzando, sto scherzando, sto scherzando, davvero, scusami. Oh porco a un porco, di chi è il porco? Oh porco a un porco, di chi è il porco? Che cosa? Oh porco a un porco, di chi è il porco? Dio porco. Blur. Bombo, cioè bombiamo insieme una tipa. Oh. Sarebbe vero, tipo un trisome con blur, sarebbe... Un trisome con blur, lo firmerai. Cioè non ci tocchiamo io l'ultimo. Ok, no madame. Chi? Che vorrei procedere? Se faccio qualcosa per migliorarmi, non per rumilarmi. Perché io se ti faccio un sondaggio in chat su... Ai ragazzi si piacciono più le tette naturali o le tette rifatte? Il 90%, il 60%. Beh dipende, ci sono delle tette però fatte bene. Si fatte bene, però nel momento in cui mi dici che sono rifatte e toccandole sento la plastichina, sento che sono vuote. Io ti dico, è una merda. Beh, comunque uno lo fa per piacersi di più a se stesse. Ok, ma... Mi prosciuga quando lei è sopra di me, te lo giuro mi prosciuga. Io la bacio, mordo le sue labbra, mi sembrano chewing up. Alla scelette l'alito. WOOOOOO! GANGSHIT BRO! Il producer dietro ormai. GANGSHIT BRO! GANGSHIT BRO! GANGSHIT BRO! GANGSHIT BRO! GANGSHIT BRO! GANGSHIT BRO! A livello di test, ho più spinto rispetto ai miei editi che... Cioè, il freestyle fa un po' più così. Oh, eh, 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 eh... Oh, wow... Se arriva al cibo, mi mandi un messaggio. E lui è tu? Eh, vuole fare... Passaggiatira l'umbo fatto. E lui vuole fare... Mio caro... Che scherzo. Che scherzo... Si, abbiamo solo orange. Se vuoi un'oltre naturale. Fra, fra, fra. Ok, se vuoi un'oltre naturale. Abbiamo una botola. Sì, un peice, un apple... Ok, Bowser. Bowser? Non è tu peach? Pesca Pesca Dessert Dessert E un'acqua, un'acqua e un'acqua Ah no, aspetta, 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 aspetta Aspetta, posso cambiare la mia decisione? Smoothies Smoothies, sì Ah, sì Ah, il live su Instagram Sì Non avevo veramente paura di che cazzo posso fare Fatela tra 12 minuti Infatti, insomma, guardo la reddita al volo No, guarda, ho veramente paura Io sicuramente lo guarderò Ho veramente paura Comunque, dai, ci vediamo mercoledì Mercoledì che cazzo devo fare? Una minchia Hai bisogno di un posto letto? No, no, no No, 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 occhio, occhio, occhio Per favore, per favore Aia, aia, aia Porco diaz Oh, ma sembra veramente un video porno Per favore Aia, aia, aia No, 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 no Aia, 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 aia Aia, aia, aia Per favore Dai, figa, ma cazzo Ma dai, ma sembra di Rubino Aia, ma Dio Rubino si fa tirare i peli Ma no, Rubino Una bella ragazza e quindi volevo Poi quel culo Fai l'immagine di tu che lo prendi davanti Fai quel culo Quel culo veramente No, scherzo No, no, no Che dice vita sbagliata? Vita sbagliata Vita? Sbagliata 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 Si dice sbagliata o sbagliata? Sbagliata 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 Allora perché dici maglietta? Maglietta Maglietta Maglietta? No Eh no, si dice maglietta Oh, i miei capelli si sbagliata No, ho capito O cane O cane ha un cane Di chi è il cane? O cane Perfetto Ma che è successo? C'è Non è andato Tu vuol dire che rimascia da un'altra amica? Si Come mai? Ma non manca un pochino Veramente? Non voglio dormire da solo la stessa sera Beh, c'è il Don C'è da You Sono io questo Dio Che èzzo No, io non so che non posso Perché non puoi? Ma no, perché io quando dormo Non so se sai cosa Di cosa soffro Soffro di una malattia molto grave Purtroppo Soffro di un problema Che quando dormo Ma stiamo andando tutti insieme, no? Ma sì Ma dove sei? Ma dove sei? Adesso me ne vado Ma no, ma mi manchi Adesso me ne vado Adesso me ne vado No Adesso vengo in pizza Sì Domani partiamo Ho già prenotato tutto Ho arrivato Va bene Ho già prenotato tutto per il ritorno Mandami la via Via dai coglioni due Scherzo Sto scherzando Sto scherzando Vero Vabbè Ti chiama Hotel E lui tipo Ti è mai mai dato Magari un po' Te lo appoggiasse Durante gli esercizi? No perché Mi allungono sola Lui fa magari la scheda E fa un check Rieta e tutto Però lui mi allungono sola Ma se tipo Quando sei in palestra Vedi magari dei ragazzi Che ti guardano un po' Il sedere Ti dà fastidio? Dipende come lo fanno Te lo fanno tipo Con la bava E dico Mamma mia Che troia Ti incazzeresti? Davvero? Ma dai Mutatevi tutti ragazzi Ma cosa ho combinato? Aspetta Aspetta Come cazzo ci significa Non si sente più cazzo Aspetta 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 Rose se non partire Senti Sono ferma Sono ferma Tranquillo Ok Volevo fare il boss L'audio L'audio sta un po' gracchiando Il mio? Sì Il tuo Il tuo Dovresti provare Il mio audio Signor Fon Davvero? Tu dovresti portare gli occhiali Però Non ti fa male? Un po' Però anche Io chiedi la vista Fammi vedere Ci devi addosso Ci devi qua? No Come no? Cioè sì ma Mettili Vedete se ti viene Quello di cale Oh Vuoi accendere la luce? Eh Eh ho capito Cioè siamo in un percorso ostacolo Devo calcolare l'organismo Per non perdere la vita Eh? No perché Potrei rischiare veramente di perderla Vai Aia Ma questa è una follia Oh per favore Ma cosa fa? Aia Ma cosa fa? Ma perché Mi metti il visito nel culo? No dai Per favore Ma ci devi mantenere Veramente Sei una live di rubino Che devi mantenere la professionalità Ma un po' di rispetto Per chi sta lavorando Sono in aft Non voglio farla un anno Sei in aft Ma sei sviata Nessunque i poverini È più deficiente Esatto